Amici Capri Evento è un piacere essere qui alla conferenza stampa del Golden Boy della canzone napoletana e non solo perché adesso ecco come abbiamo detto anche in conferenza si sta espandendo ma soprattutto c'è un appuntamento importantissimo domani lo ricordiamo all'Arena Flegrea. Esatto esatto l'appuntamento più importante finalmente da protagonista in questo scenario meraviglioso che è l'Arena Flegrea e niente io adesso non ti nascondo che l'emozione è già tanta posso assicurare che l'ansia esiste anche l'ansia da prestazione i calciatori solito anche anche i cantanti e come esorcizi tutto questo guarda credo ci sia poco da fare l'unica cosa che bisogna avere un po di pazienza perché sono i primi i primi 5 10 minuti che sono quelli più quando sei no quando sali sul palco la prima canzone comincia a tremare quindi la voce è tremolante come dire però poi man mano però si è avvantaggiato perché a differenza dei calciatori che devono fare risultato tu sei a posto ormai se lì le tue fanno lo sanno quindi il risultato il gollo lo fai è col sold out dell'Arena per una parte per un'altra parte non è psicologicamente non è vantaggioso per un cantante perché no perché il cantante è da solo sul palco quindi la responsabilità è solo tua mentre il calciatore ha tutti i compagni di squadra e quindi il risultato non non è solo non proviene solo da lui la responsabilità non è solo ecco la puoi dividere la puoi la puoi dividere ho fatto questo accostamento perché tu prima di fare il cantante più di una volta detto che facevi il calciatore sì sì no mi piaceva giocare a calcio per un anno sono stato negli allievi della fiorentina non del napole no 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 a firenze quindi sì 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 mi piaceva giocare a calcio ma comunque la dote che che prevaleva era sempre quella del canto però non sei tifoso alla fiorentina abbiamo dirlo se sei tifoso juventino mi sembra guarda non rispondo nemmeno non rispondo nemmeno perché sappiamo che è il sangue partenopeo sono un cantante non devo sono un personaggio pubblico non devo espormi più di tanto posso solo dire che io sono napoletano ho nelle vene il sangue azzurro non possiamo farvelo vedere però però voglio dire allora ritornando a te dobbiamo fare un passo indietro però non tanto indietro perché voglio dire è un annetto insomma che ha collezionato davvero dei grandi successo partiamo dal dove sarai tur che insomma sei stato in tutta italia sold out ricordiamo anche al teatro del verming insomma è un teatro dove hanno debuttato i duranduran io posso esserne sicura di questa cosa cioè voglio dire ti sei comunque confrontato con dei grandi colossi hai fatto sold out milano torino lo ricordiamo bari e poi dopo dopo questo adesso c'è questa nuova realtà che l'arena flegrea ecco come ti ho chiesto anche in conferenza ci credevi soprattutto in questo anno tutti questi grandi riconoscimenti anche con siani voglio dire per per quanto riguarda troppo napoletano ecco ti aspettavi un po tutto questo come ho detto anche in conferenza io sono sono una persona sincera e mi piace essere sempre tale in questo momento mi aspettavo delle attenzioni particolari mi aspetto ancora qualcosa in più e sicuramente sono sulla sulla strada giusta sul sul sentiero giusto se invece torniamo a dieci anni fa tutto quello che è successo all'inizio magari non me lo sarei aspettato però oggi ti posso dire invece che mi aspettavo dei risultati importanti e mi aspetto ancora qualcosa in più però come ho detto già prima in precedenza mi piacerebbe che queste mie parole venissero poi con sincerità c'è il messaggio è quello che io sto parlando con con il cuore sinceramente con umiltà ti aspettavi questo perché perché comunque viene da una grande gavetta perché ricordiamo da quanto tempo canti rosario si no da tua mamma è stata carina perché ho visto sei in post senato col micro quindi chi più di tua mamma chi lo può dire cantare canto da tantissimi anni da tantissimo tempo però faccio parte della musica che conta da dieci anni più o meno rosario allora ritornando all'arena freghea abbiamo detto che ci saranno degli ospiti però ti senti forte di questa cosa che non sono stati detti nomi e comunque sei riuscito ad avere sold out io lo faccio sempre tutti i miei concerti a me non piace dire gli ospiti fino a quando o non ho il sold out oppure capiamo che ormai è chiusa la biglietteria insomma quindi a quel punto io decido di annunciare gli ospiti però fino fino a tanto fino a quel momento non non mi piace dire insomma gli ospiti annunciare sempre della tua misura bisogna bisogna vedere quale è la tua forza reale il tuo vero spessore e questo è importante senti un rimpianto a un rimpianto nella tua carriera ma forse un rimpianto un rimpianto magari nel momento in cui sono tra virgolette all'epoca esploso avrei in quel momento sfruttato quell'occasione come come sto facendo oggi più che più che aspetti vivendo sì 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 oggi me la vivo di più prima essendo più giovane magari pensavo più a divertirmi anche e quindi qualcosa l'ho tralasciato però devo dire che in questo in questo cammino non non mi posso lamentare grosso modo sono contentissimo e rimpianti ne ho ma molto pochi ecco pochi allora abbiamo detto per quanto riguarda il concerto ma la cosa fondamentale dopo tutto questo che cosa si devono aspettare le famo perché tu ormai le sta abituando bene in un anno no dico ecco dopo l'arena freghe a rosario miraggio si metterà e cosa ecco cosa vuole progettare che qual è il suo primo progetto imminente ma sicuramente la prima cosa che ci sarà sarà un ci sarà un tour quindi ci sarà un tour vasto di concerti per tutta l'italia da napoli partiamo per poi allargare sì sì ci sono poi d'estate sicuramente sarà in giro ci sarà l'impossibile quindi questo sicuramente come come faccio sempre e poi devono aspettarsi sempre sempre un passo avanti come dico sì allora ti ringraziamo per essere stato con noi un saluto agli amici ovviamente di capri event e di non solo calcio che ti sono affezionati grazie grazie a voi è sempre un piacere avervi sappiamo bene che c'è ancora ci sono altre occasioni per per vederci e per stare insieme sicuramente grazie rosario miraggio grazie a voi